Ha investito la ciclista schiacciandola col camion. Capito l'accaduto, si è fermato ed è sceso, venendo colto da un malore fulminante. In ospedale sono finiti entrambi la ciclista con gravissime lesioni, ha una gamba. Si dovrà vedere se sanabili, ma comunque non pericolo di vita. Mentre il conducente è stato rianimato e ricoverato, anche per lui, per fortuna, il quadro clinico non appare critico. È accaduto verso le 11.40 di martedì 2 novembre, in corso del popolo, alla rotatoria, alla confluenza con via Ravenna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che con tutta la loro professionalità hanno sollevato il camion, consentendo i soccorsi alla ciclista. Hanno impiegato i cuscini gonfiabili in dotazione. Per tutte le evenienze, comunque, era stata mobilitata anche l'autogru. Sul posto, per i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica, il personale della Polizia Locale, in supporto alle volanti, che hanno fornito assistenza sia per i soccorsi che per gestire la viabilità, particolarmente complessa e intensa in quel punto di snodo. Ancora presto, per definire o ipotizzare responsabilità, servirà appunto un certosino lavoro sui rilievi eseguiti con competenza e pazienza dal personale della Polizia Locale.